Ciao a tutti, vediamo in questo video, vediamo in questo video superpotere nascosto, 15 segni che sei un maschio sigma il maschio sigma ricordiamo è più del maschio alfa è il seduttore per eccellenza, è l'uomo che coinvolge, l'uomo che fa innamorare naturalmente le donne ci sono uomini che lo sono ma non sanno di esserlo e quindi non si comportano come tali ma in realtà avrebbero le potenzialità, basta magari dare una piccola giustatina per tirare fuori queste potenzialità quindi devi imparare a tirarle fuori, tiralo fuori allora vediamo un attimino quindi quali sono questi 15 segni che sei un maschio sigma prima però iscriviti al canale, metti un like se il video ti piace, condividilo con i tuoi amici e ovviamente fai una donazione al canale se ti va di farla e abbonati insomma, fai quello che credi allora vediamo quali sono le caratteristiche del maschio sigma le 15 caratteristiche, i 15 segni che tu sei un maschio sigma magari senza sapere esattamente di esserlo allora da prima, la quindicesima, passiamo dalla quindicesima è quella che non vedi nessuno superiore a te vedi tutti i tuoi pari diciamo che hai questa caratteristica che non sei né arrogante ma neanche come dire non pensi di essere peggio degli altri ma non pensi neanche, non hai il deliro di ogni potenza quindi hai un equilibrio quattordicesimo punto, riconosce a te stessi i tuoi difetti ma non come un marchio di fabbrica ma la possibilità di migliorarti e lavori sempre per migliorarti e questo è un punto fondamentale, cioè lavori sempre per il tuo miglioramento tredicesimo punto, hai un senso della moralità quando parlo di moralità non parlo di etica, cioè non parlo di ciò che distingue il bene dal male ma intendo con moralità il fatto che se prendi degli impegni li rispetti quindi questa è una caratteristica molto fondamentale la dodicesima cosa è che apprezzi moltissimo il tempo passato da solo non hai bisogno sempre della folla sai stare bene insieme agli altri ma non ne hai bisogno undicesimo punto, tendi a proteggere il tuo spazio personale cioè non, come possiamo dire, non lasci che le persone entrino e ti massacrino diciamo, volendoti cambiare, volendo modificare mantieni saldo il tuo spazio personale individui facilmente, come undicesimo punto potremmo definire microaggressioni cioè le persone un po' arroganti anche le donne un po' arroganti e le mandi a fanculo senza problemi non hai problemi di fare il cavaliere servente diciamo così diciamo che alcune di queste sono in comuni ovviamente col maschio alfa il maschio sigma però è molto più autocentrato ha molto meno bisogno dell'approvazione degli altri decimo, nono punto sei altamente indipendente non hai bisogno che qualcuno diciamo ti dica cosa fare, cosa non fare oppure per raggiungere un obiettivo necessiti qualcuno no, sei altamente indipendente ottavo punto sei persuasivo sei convincere le persone ad essere d'accordo con te settimo punto hai la capacità di naturalmente di leggere a livello non verbale e capire le persone hai la naturale tendenza a capire se qualcuno ti sta mentendo se qualcuno ti sta prendendo in giro se qualcuno gioca sporco insomma sesto punto fondamentale sei tu solo tu e soltanto tu che definisci il tuo valore cioè non sei etero diretto non sei guidato dagli altri questa è una delle caratteristiche fondamentali del maschio sigma di non essere etero diretto dagli altri quarto punto riconosci i narcisisti le narcisiste e te ne liberi non ti agganci ai narcisisti assolutamente hai una sorta di fiuto e li lasci nella merda te ne fotti non hai necessità terzo punto sei un leader diciamo silenzioso perché non non vuoi non hai necessità di essere al centro dell'attenzione ma molto efficace le persone ti riconoscono naturalmente la tua leadership ti riconoscono come guida e spesso questo accade non soltanto in un contesto predefinito ad esempio a causa di un grado magari in azienda hai un grado superiore all'altro e quindi come dire riconosci questo no ti riconoscono le tue caratteristiche diciamo indipendentemente da tutto indipendentemente diciamo dai luoghi dove ti trovi in qualunque luogo tu vai la tua personalità ti fa apparire come un leader determinato secondo punto dedichi tempo alla meditazione alla riflessione non sei non hai le scimmie mentali che ti impediscono di concentrarti hai una buona capacità di concentrazione hai una buona capacità di meditazione hai una buona capacità di entrare in sintonia con te stesso e poi c'è un punto fondamentale che questo caratterizza molto il maschio sigma un po' a differenza del maschio alfa che talvolta perde un po' questa caratteristica e che apprezzi la tua libertà personale più di ogni altra cosa cioè non lasci che le persone ti tolgano la libertà anche magari a fin di bene perché ci sono persone che magari per dire a fin di bene cercano in qualche modo di condizionarti cioè tu non sei manipolabile fai quello che ti piace fai quello che ti va di fare e se qualcuno non è d'accordo con te come dire o si allontana il tuo pensiero poverino lui o poverina lei nelle relazioni sentimentali non sa quello che si perde e queste sono un po' le caratteristiche che fanno di te un maschio sigma ed è un superpotere nascosto quindi cerca di capirlo perché è molto importante per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Terramasco ufficiale su TikTok su tutti i miei canali YouTube metti un like se il video ti è piaciuto iscriviti al canale ovviamente attivando la campanella così riceverai la notifica dei miei video e ti ricordo che puoi fare donazioni al canale sono ben gradite e se vuoi puoi anche abbonarti al canale stesso ciao a tutti al prossimo video ciao